No, guarda, è che non funzionerà. Ok, che ne pensi del Cell Max Game? Non è stupido. Ma se lo faccio potrò fare anch'io i miei video. Come fai tu? Sai, non è una cattiva idea Cell. Invece che avere un trambusto secondario redditizio. E che ne sai tu? Beh, a volte faccio dei podcast riguardo a questo. Come sarebbe? Faccio podcast everotici per delle novelle. E così gli spazzerei gentilmente la sacca scrotale, schiaffeggiandomi lentamente il naso. E se facessi video come i tuoi? Assolutamente no. Avanti, Cell Max contro Gundam Knuckles. Io giuro su Dio che se lo farai, mi suiciderò. Di nuovo! Che ne decidi, Cell contro Cell Max? Oh no no no, Cell contro se stesso, egoismo riservato ai tacca. Tu dovresti essere originale. Ma tu non sei originale. Tu sei una copia del Team Forte. Lui deve essere molto più originale. Ce l'ho. Dovrà trovarmi una spalla. Specificamente, un Muppet. Cosa? Torna qui. Continui a non essere originale. Max? Figlio di Troia, torna subito qui. Max? 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 Max?